Ancora un sopralluogo per cercare uno degli elementi centrali dell'indagine, l'arma del delitto. Un ciocco di legna, questo l'oggetto utilizzato per colpire sulla testa Carlo Giancola e la 72enne trovato privo di vita dai carabinieri la mattina della vigilia di Natale 2022 a Santa Maria del Molise, nella camera da letto della casa in cui viveva con la moglie Irma Forte. E' lì che la donna, 66 anni, agli arresti domiciliari proprio dal 24 dicembre con la gravissima accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale avrebbe aggredito il marito, uomo con cui da decenni viveva un rapporto difficile, fatto di vessazioni continue, come ha raccontato lei stessa la GIP del Tribunale di Isernia, Michela Sapio, nell'interrogatorio svoltosi durante l'udienza di convalida dell'arresto. Stavolta non saranno quindi gli esperti delle indagini scientifiche del RIS di Roma a ispezionare nuovamente l'appartamento posto all'ingresso del piccolo paese della provincia di Isernia, ma ai militari della compagnia Pentra, quindi del nucleo investigativo e del nucleo operativo e radiomobile. Quel pezzo di legna da ardere, così come viene definito nell'informativa della procura, probabilmente non esiste più perché sulla base delle dichiarazioni dell'indagata e degli accertamenti degli investigatori sarebbe stato bruciato nel camino. Ma come riporta oggi, primo piano molise nell'articolo di Lucia San Martino e i carabinieri vorranno sequestrare altri pezzi di quella legna, conservata in uno sgabuzzino, per verificare la compatibilità con altri elementi di prova di cui sono in possesso. L'intento quindi è quello di comparare il materiale da acquisire con i reperti che sono stati già rinvenuti anche grazie all'ausilio del RIS. E questo assume importanza soprattutto dopo l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo di Carlo Giancola. Il procuratore capo della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, che sta coordinando le indagini, non vuole tralasciare alcun aspetto del delitto. È intenzionato a verificare quanto avvenuto in ogni fase, anche quella successiva, considerando che, come ha dichiarato più volte, la scena del crimine sarebbe stata ben ripulita prima dell'arrivo dei carabinieri. Grazie a tutti.